Che giornata, una giornata in cui a un certo punto sei stato al volante della Volvo e poi invece una terza prova data a tre minuti dal termine ultimo orario e la Volvo è di Raquel. Spero che mi viene almeno il bullone di una ruota di scorta di questa Volvo perché effettivamente sono stati decisamente più bravi, inutile sia che stiamo a guardare la giornata solo di oggi perché oggi Andrea è andato, sono andati un po' mal, diciamo non come gli altri giorni, gli altri giorni sono fatti cinque primi e quindi secondo me era giusto che la prendessero allora. Il weekend scorso eravamo qui a festeggiare con te proprio sugli SB3 per il campionato nazionale quasi fatta doppietta, comunque tu che eri rappresentante degli SB3 come ti senti? No, beh sono orgoglioso posso dire, no perché io quest'anno diciamo che ho fatto le prime ragate in SB3 quest'anno anche se c'è stata una piccola puntata l'anno scorso ma mi sono letteralmente innamorato della classe, la barca è una barca secondo me eccezionale e ancora sono stupito che non abbia avuto il successo che merita, cioè è una barca economica, facile, veloce, pratica e poi il vantaggio è che è un vero monotipo, cioè io mi sono fatto ragate in tante altre classi, in altre classi con vele diverse, alberi diversi eccetera eccetera ci sono grosse differenze di passo, qui io ho visto che le barche camminano perfettamente tutte uguali, anche in questa Coppa dei Campioni mi sa che quando c'è stato stamattina dice ma le risorteggiamo le barche, nessuno si è lamentato nel senso che tanto le barche vanno tutte uguali. È stato anche un bello spot per la classe, lo stesso Rakelli ci diceva che non esclude di fare parte o tutto il circuito l'anno prossimo. Ma io penso, allora diciamo che io parlo da innamorato del Majors 24, a me piace moltissimo il Majors 24, bellissimo, c'è un altissimo livello, sicuramente la classe più agonistica che ci sia adesso in Italia, però la situazione economica attualmente è quella che è, penso che se tutti si dessero una ridimensionata, torniamo con i piedi per terra e andiamo a regattare su un SB3 che, ripeto, ha pochissimo da invidiare dal punto di vista tecnico, ha un Majors 24, penso che sia una cosa, cioè fa bene al portafoglio, ecco. Di questa Volvo Champions Cup cosa ne pensi di questo formato? Bellissima, bellissima, un'ottima idea e penso che sintetizzi ciò che manca nello sport della vela, nel senso che abbiamo 2000 campioni, tutti sono campioni di qualcosa, abbiamo 3000 classi, abbiamo una marea di classi olimpiche, eccetera eccetera, anche la stampa è disorientata, non riesce a capire i veri valori delle persone, riunire tutti i campioni in un'unica manifestazione è proprio un messaggio ai media che stiamo dando strepitoso, secondo me. Allora, complimenti al vice campione dei campioni. Grazie, grazie.